madonna era crashata la diretta aveva già un pinta e si azzerato tutto mamma mia assurdo 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 comunque una roba una roba del genere veramente assurda adesso non so se la live come funziona qua è un casino la live è tutta buggata che è successo la live è buggata vedo me con la bocca aperta e tiro un pallone ma che succede puro un attimo chiudo tutto e riapro un attimo puro un attimo chiudo tutto e riapro un attimo ok ora la vedo il titolo ovviamente non c'è quindi il titolo è di carta igienica nella categoria eccola qua maggiore le informazioni e ci siamo ora in teoria ok devo andare ok mamma mia è crashata la diretta perché ho bestemmiato troppo no ma davvero quando uno perde così è che è successo è crashata la diretta era crashata la diretta perché ho tirato dei pugni sul tavolo e quindi la diretta si è crashata ho tirato dei pugni sul tavolo semplicemente ho tirato dei pugni sul tavolo e la play si è spenta e quindi la diretta è crashata tutto qua tutto qua tutto qua però sembra che sto andando bene ok ho abbassato il volume mamma mia ok adesso io veramente non so più cosa fare sto impazzendo questo gioco mi sta facendo davvero impazzire sto davvero facendo impazzire questo gioco ma non di gioia di rabbia io voglio vincere ma è impossibile è impossibile io davvero se vinco non so siccome si sbloccherà un mondo la rabbia tutta la rabbia che ho infrecato per questo gioco sparirà nel nulla nel nulla sparirà come porca miseria non ci sarà più rabbia non ci sarà pace nel mondo ci sarà ok questo gioco questo gioco lo odio però lo devo fare per vincere quindi accetterò di farlo ok mamma mia ti prego ti prego ti prego andiamo il pinguino mi porterà fortuna se vinci ti pago e se mi paghi ora sono più motivato di prima sinceramente a me poco mi importa del denaro in questo momento voglio solo vincere voglio davvero solo vincere oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio c'è poi c'è poi raggiunto ti pago un centesimo guarda che fai te ne aprivi un centesimo tanta roba guarda solo facciamo così ci siamo quasi ci siamo quasi ti prego ti prego ti prego no ti prego no ti prego no ok qualificato e due fatti e due fatti va bene due fatti due fatti due fatti ok corretamente gioco a squadre io mi tappo gli occhi ma scommetto che sarà un gioco a squadre ci scommetto ci scommetto guarda non vedo non voglio vedere come vedo un gioco a squadre non lo voglio vedere non lo voglio vedere non lo voglio vedere però voglio vedere lo sapevo ah peggio peggio di un gioco a squadre questo è peggio di un gioco a squadre questo è molto peggio di un gioco a squadre questo è mille volte peggio di un gioco a squadre questo non sono mai riuscito a completare mai perché è impossibile adesso devo farcela con la mia testa però ma veramente oh mi mette queste mappe impossibili Allora Non userò i trucchi loro Vado per di qua Vado piano Non uso i loro trucchi Aspetto che questo se ne vada Vai, se ne va via questo Ok, perfetto Allora Le palle Ok Qualificati 29 Risco a farmelo piano Adesso questo devo farlo velocemente Ok, oddio Oddio, 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 ti prego, no, ti prego, no Ecco, lo sapevo Ecco, lo sapevo No, no, sono bloccato, sono bloccato Scusa, non mi mettere Sì, ma non mi mettere visuale prima persona Mi pazienza Mi pazienza Di questo gioco, allora Porco Dio Ma è impossibile, figa Ma è impossibile, figa Figa, ma è impossibile, dai Ma chi lo fa C'è fatto di steroidi, è fatto È fatto di steroidi, dai È un gioco impossibile, dai Dai, no, dai, no È una skin Ma è un gioco impossibile, figa Un gioco impossibile Non No, no, questo qua Questo qui è un gioco davvero impossibile No, questo qui è un gioco impossibile Io davvero Non penso davvero che qualcuno Non Non penso Che qualcuno sia in grado di riuscirci È un gioco impossibile È un gioco impossibile Chi ce la fa È pompato di steroidi Perché non è possibile Non è possibile Una mappa impossibile Non c'è un modo Una tattica È impossibile farlo di seguito Meglio Fortnite Guarda, Fortnite è meglio Però qua io sono più motivato A fare questo gioco Perché voglio vincere È da un po' che non gioco Ah, no, è vero Te conosci Camus Quindi Non posso dire che non è da un po' che non gioco Fortnite Eh, vabbè Eh, sì Comunque sì Oh, il gioco delle porte Ma sono sempre 41 Qui non c'è gusto Qui dovrebbe Mettere dei giochi più Cioè non dico impossibili Ma Di che salti E puoi saltare Quando li fai i server privati Oh Eh Il problema è che a me non piace fare Cioè io sono in realtà A me non piace fare tanto i server privati Mi piace molto Il fatto che ci siano Le persone che si divertano Ma io quando faccio i server privati Mi diverto ben poco Mi diverto ben poco Iana Mi diverto ben poco Perché La gente È lì solo per quella ragione Quindi io li faccio Solo perché Se no Non andrerebbe nessuno E sarebbe un peccato Ma veramente È orribile farli Da sicuro Non è divertente Aiuto Che palle No Che palle Guarda quanta gente c'è Ho perso Ho perso o no Forse no Per cui Peccato non ci siano su Fall Guys È vero Peccato non ci siano su Fall Guys Mi divertirei di più a farli Forse è il gioco proprio forte Che non mi piace Ho forte Che non mi piace Ciao a tutti Guarda guarda Comunque vi chiedo Quale arriverò Chi sarà il quarto follower Di questo canale È un viaggio lungo il mio Questo su Twitch È un viaggio molto lungo Estremamente È un viaggio estremamente lungo Questo qua È un viaggio estremamente lungo E complesso Ok Questo gioco di bilanciamenti È un po' rompi palle Però Si può fare Dai È un po' Ecco appunto Vedi perché devono spingere Io davvero non capisco Perché queste persone Cioè Io non voglio Voglio davvero Sapere chi è Chi gioca Cioè Chi è che spinge così Proprio Devono tutti affannarsi Madonna Provo Provo Ok Ok Incredibilmente Ce la sto facendo Meglio di quanto Me la Meglio di quanto Me l'aspettassi Oddio 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 Eccolo Palla di lardo Ma Al rapporto Cazzo succede Testa per terra Sì vabbè Figa marcia Porco dio Guarda come cade Testa di cazzo Ma che cazzo cade così Ma vaffanculo Ma porco dio Ma che cazzo cade Dio Maialino Oh madonna Un miracolo Ma che si svegli pure mia madre A sto punto Guarda Ok Se cadi Porco dio Se cadi Porco dio Va Fa culo Va Fa culo Dai Dio cane Maiale Non è possibile Non è possibile Non è possibile Se cade ancora Sto pinguino Marcio Sto pinguino Oh Oh mio dio Miracolo 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 Porco dio Porco dio No se perdo Palla di lardo Pezzo di merda Ciccione obeso Del cazzo Piccione di merda Ma come cazzo Fa a cadere Palla di lardo No veramente No veramente Ti prego Gesù se esisti Dammmela conferma Dammenta conferma Dammenta conferma Dammenta conferma Dammenta conferma Sì Sì Tu esisti Tu esisti Tu esisti Tu esisti Tu esisti Tu esisti Lo sapevo Oh mio dio Oh mio Dio Oh, ora esiste Dopo questo esiste Dopo questo esiste Dopo questo esiste Lo so che non esiste, ma dopo questo esiste E anche Babbo Natale E anche Nabbe Fala Madonna Oh, Madonna, devo sempre continuare a vincere così a culo Se arrivi primo esiste, hai ragione Effettivamente è vero Però per un millesimo di posto Mi ha aiutato Vado di qua Easy, ciao, come va? Tutto a posto, vado di qua Ciao, come va? Tutto a posto Aspetto che vado di qui Vado di qui Queste ciambelle non mi spingere Io di Ralph Io di Ralph Vado di qua e va tutto bene No, 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 cadere lì Vado di qua e va tutto bene Vado di qua e va tutto bene Poi vado di qua e va tutto bene Vado di qua e va tutto bene e continuo così di qua va tutto bene di qua va tutto bene ok vado di qua e va tutto bene 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 avanti e indietro vado di qua oh che cavolo spinge va tutto bene va tutto bene va tutto bene guarda com'è liscio sto coso è tutto liscio è tutto liscio troppo liscio infatti ora arrivano le difficoltà non mi spingere per contesia contesia fammi andare di qua ok è tutto a posto vado di qua è tutto a posto torno di qua è tutto a posto è tutto a posto vado un attimo un po' più avanti vado di qua è tutto a posto vado di qua è tutto a posto oh madonna quanto dobbiamo rimanere ancora qua quanto tempo bisogna rimanere qui qualcuno potrebbe gentilmente abbandonare i cilindri così lento e let's go qualificato easy esattamente ora sono come quelle moze di ok da sole in questo momento 1,2,3 ok 19 ora metterà un merdoso gioco a squadre io ci scommetto ci scommetto tutto che metterà un merdoso gioco a squadre ciao quanto ci prometti che metterà un gioco a squadre wow guarda non l'avrei mai detto non l'avrei mai detto che mettermi questo gioco ovviamente io sarò team giallo non so perché ho questa impressione ho questa impressione team giallo oh finalmente un team decente mi ha messo no se ora perdo in questo team non lo accetto questo team vince sempre vince sempre questo team secondo me proprio c'è un vantaggio rivolto a questo team esclusivamente è il team blu c'è un vantaggio esclusivo c'è un vantaggio esclusivo vedi 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 ha po' avvantaggiato il team blu te lo dico io te lo dico io parola mia il team blu è un team avvantaggiato secondo me non so perché ho questa teoria hai ragione è vero e vedi è avvantaggiato sto team oh finalmente mi ha messo nella squadra giusta no no occhio 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 no 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 parate 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 fate di tutto paratela non so fatela volare via vai vai no 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 perché vai grandissimo eroe eroe oh vai anch'io un po' eroe l'ho fatto dai un minuto e venti possiamo farcela dai vai vai parala parala paraginci ma perché spingi cosa fai oh mio dio oh mio dio aiuto eh ce lo stiamo facendo stiamo facendo vai mi buto anch'io a caso vai vai la palla dai che entra dai che entra questa bella palla no occhio di parate eroe 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 no occhio vai eroe dai via non entrare no è inutile non la facciamo entrare no aiuto aiuto occhio eroe eroe aiuto aiuto per favore no eroe 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 per venti secondi dai eroe ma siamo tre a zero eroe no l'eroe è morto undici ma tanto dieci nove otto sette sei eroe cinque quattro tre due uno eroe 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 oh finalmente ho vinto una partita a calcio miracolo eroe e ora c'è il gioco finale ovviamente non ero mai arrivato così lontano così lontano non ce l'ho mai arrivato mai arrivato così lontano assurdo eroe non può mettere un gioco a squadra per decidere la corona eccolo qua il round finale il round finale qui so solo che devo saltare il round finale mi sta tremando le ginocchia mi sta tremando le ginocchia round finale round finale ok porca eva no porca eva però non cadere già così non cadere già così porca eva maledetto allora devo tipo fare così no no io non mi sono mai trovato bene a saltare no no porca miseria ok 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 porca miseria porca miseria porca miseria ladra maledetto e mo e mo che cazzo faccio no sto gioco l'odio sto gioco l'odio e mo che faccio gli altri sono ancora sopra porco dio porco dio non è possibile no sto gioco anche impossibile però no 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 e mo son cazzi davvero no 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 è impossibile no sti giochi davvero poi rimarrà un finale come faccio la vaffan brodo dai no dai impossibile sto gioco è impossibile era un finale ma come si fa ma come si fa ma come si fa cioè spiegatemelo spiegatemelo come si fa perché io non lo so come si fa io davvero non lo so un casino è un casino è un casino davvero questo gioco carta ah è vero giusto hai ragione bravo 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 che bravo che me l'hai ricordato bravo che me l'hai ricordato ma era la prima questa prima partita comunque è durata molto io non so come fare questi giochi è troppo difficile troppo difficile se lo voglio davvero io non so come farlo mi spenderò lezioni in prima farò ripetizioni di questo gioco però ripetizioni di questo gioco che prenderò ripetizioni di questo gioco no avevo quel round finale assurdo cadi subito comunque lì non so come farlo ai 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 un botto è proprio preso e si va bene non spingere cromosoma si va bene vai un po' più avanti dito ok vabbè cadi ok tu hai capito va bene e la madonna quanta gente è passata e madonna sta palla ma tra un tramortivo oh mio dio ti prego dovrei riuscire a farcela tranquillamente oh bene gg però grazie mille Diana ok qua tranquilla tranquillamente adesso i round li facciamo dai i round li facciamo i round li facciamo tranquillamente quello rosa è morto lo sapevo tranquillamente tranquillamente quando ho dato quali si parla tranquillamente ci possiamo fare ci possiamo fare andiamo al prossimo qual è ok ok dai non mi lamento non mi posso lamentare state onesto non mi lamento 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 ma ho chiesto non mi lamento no ecco e non mi lamento e non mi lamento è perfetto è perfetto che non mi lato è quello più difficile di tutti eh sto cilindro dirillo buonanotte i dirilli sono quelli del bullying ok provi a spingere venendo nel burdo ok bello il pesce però non pescatore qualificato let's go let's go molto bene molto bene molto bene molto bene ok ok molto bene GG quel cinese porterà fortuna ora è quello che ho preso nelle vani in 18 quindi questo era il secondo round questo è il terzo oh no questo ah ho capito ho capito cos'è questo già sappiamo cos'è com'era era easy era easy quello lì dai cilindri ah mi intendi il panino easy 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 e poi muoio nooo cazzarola 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 perché spingono sti bastardi corrispondini porco oddio porco oddio porco oddio porco oddio porco oddio porco oddio vaffanculo vaffanculo di okane sti stronti pezzi di merda che vi spingono veramente io veramente a queste persone qua Meglio che non dico cosa gli farei, guarda Sti pezzi di merda fini di puttana Ma che cazzo spingono Porca Eva Porca Eva, Eva, Eva Di figa Mamma mia, non so cosa farei, guarda Meglio che non ti dico cosa gli farei a queste persone stronze Cazzo spingono, cazzo spingono Ma che cazzo spingono Cazzo spingono, ma che cazzo spingono Ma che cazzo spingono Non capisco la vera, perché queste persone devono spingere Ma si divertono, non si divertono, non si spingono Sono fieri Madonna cara Ah, giusto, la carta La carta Secondo pezzo di carta Mamma mia Secondo pezzo Io davvero mi sto cominciando a rendere Guarda il cambio gioco Davvero impossibile Davvero impossibile E vorrei proprio iniziare un gioco appena esce Il commento di qualcuno è pro A caso No, no, no Qui c'è una mafia dietro Per forza Secondo me c'è una mafia Secondo me c'è una mafia dietro Che gestisce tutto Per forza Io non ho altre spiegazioni logiche Ma come? Vabbè No Bravo Spingete Spingete che siete furbi Vedete Guarda come siete furbi Spingete Siete furbissimi How A society Work Non fate assembramenti C Questo è come invece fanno Le persone Poi cadono Un briaco marcio Un briaco marcio Proprio Bello Se d'assembramento Fortuna sto scegliendo Guarda Ci sono meno persone qua Eppure muoio Aspetta 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 Vai 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 No Mi sa che non ce la faccio Mi sa che non ce la faccio Mi sa che non ce la faccio Forse si Mamma mia Adesso lo farò Evo in mente Di farlo Ok Cilindro Easy Uno Evo in mente Oh man Deveco che mi spingi Cosa spingi Cosa spingi Ma cosa vuole sto gallo Cosa vuole questo galletto Vai a fare le uova Ma vuole della mia vita Nice E' un certo E' un certo Non è ancora un certo Non è ancora un certo Oh 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 Ma perché questo? Perché questo? Perché questo gioco? Perché questo gioco? Sì vabbè, che pezzi di merda che mi spingono dai. Perché devo spingere? Non capisco questa logica, che divertimento ci sia nello spingere qualcuno solo per il gusto di fare, è una cosa veramente malefica, malefica. Ma cosa malefica? Grazie. Grazie. Bello sto loop, bello sto loop, bello bello. Ancora un attimo, dammi un'altra palata in testa, sono felice se me ne dai un'altra. E vabbè, ce l'ho mai. Ah, fanculo questi pezzi di cardigenica, neanche vogliono entrare nelle cose. Una parola. Buonasera Easy Gabri, benvenuto. Come stai? Oh madonna mia. Dai. Eh, vabbè. Provo a non vestemmiare. Ok, dai, ci siamo. Ok, qualificato. Sei entrato in un loop infinito prima, ma veramente è da bestemmia, è da bestemmia. A parte che, in teoria, sono morto già due volte, anzi tre volte, quindi dovrei mettere tre pezzi. Tutto bene te? Guarda, io sto bene, ma qua sto bestemmiando da un sacco di tempo per questo gioco. Le sto veramente tirando di tutte, le sto dicendo di tutte. Sto bestemmiando tantissimo. Comunque, tre pezzi di cardigenica. Sono morto tre volte in questo gioco. Veramente assurdo, veramente assurdo. Questo gioco è assurdo, questo gioco è assurdo. È il gioco più difficile a cui ho mai giocato. Non penso di aver mai disprezzato Dio così tanto. Cioè, disprezzato. Non penso di aver mai bestemmiato così tanto. Va male. Non so, non so se ti sei contro la bestemmia. Mi dispiace. Comunque... Comunque ora... Questo è anche questo, è un gioco veramente che ti fa arrabbiare. Però, ormai l'ho fatto tante volte. Ok. Easy. Va su. Ok. Molto bene. Va giù. Molto bene. Sì, anch'io ci gioco e lasciamo perdere. Sì, infatti, infatti. Guarda, infatti... Io ci sto pensando di lasciar perdere e di cambiare gioco, ma... Oramai... Porco Dio! Ok. Ok. Ce l'ho fatta. Porco Dio! 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 Ero nel traguardo! Porco Dio! Porco Dio! Guarda! Porco Dio! No, 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 no sull'orlo del traguardo e qualche coglione, non so come cazzo ha fatto, è andato prima di me. Ma come cazzo è possibile? Ma come cazzo è possibile? No, che gioco di merda. Quarto pezzo di carta igienica, porca dia. Dai, non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. No veramente, no veramente, no veramente, no veramente, no veramente, no veramente. Io veramente, io veramente non so più cosa dire, non so più cosa dire, non so più cosa dire. Gesù, Gesù se mi stai ascoltando, veramente. Oddio quattro follower, grazie mille EasyGabri del follow, gentilissimo, grazie mille. Ce l'ho fatta, abbiamo raggiunto i quattro follower, almeno tutte queste bestemmie sono servite a qualcosa queste bestemmie. L'ho tirato. Grazie mille Gabri, grazie mille, grazie mille, grazie mille davvero, finalmente. Eccolo qua. We find il quarto follower. Quarta, ecco ovviamente, 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 ok bello, mi piace. Poi, ecco, ecco, ecco bello, belli, 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 belli. E di che? Ok qua salto. No, 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 guarda che assembramenti. C'è veramente troppa gente lì, io non so più cosa fare. Porca miseria, ti prego, Gesù, se esisti, no Gesù, no Gesù, no Gesù, no Gesù, no Gesù, adesso basta, eh, adesso. Qualificato. Nice, GG. Vai, ce l'ho fatta, finalmente. Eh, te no. Vai, meno male, meno male, meno male. Tanti e tutti i morti, meno male, meno male. Grazie mille. Comunque puoi bestemmiare in chat quando si perde. Certo. Io, per me non è un problema. Se per me non è un problema, io non sono contro la bestemmia. Quindi non è un problema. Questo lo conosciamo già. Easy. È andato, è andato via. Eh, vabbè. No, no, ci sono. No, c'è ancora, c'è ancora. Ma poi io non obbligo nessuno, eh, io non obbligo nessuno. Non sono di certo un dittatore, non obbligo nessuno. Quando uno, se vuole rimanere, ben meglio, a me fa piacere. Ora qua, questo qua gioco è molto difficile perché i rulli, qui non so cosa mi convenga, se è meglio cadere o meno, meglio cadere, meglio cadere, assolutamente meglio cadere. Io non bestemmio. Allora se, Easy Gabby, se ti dà fastidio, che bestemmio, dimmelo che cerco di moderarmi. Cerco di non bestemmiare, se ti dà fastidio. Solo che, ovviamente, quando sclero, viene naturale. Però, proverò a controllarmi. Proverò a controllarmi, comunque. Proverò a controllarmi. No, e la Madonna, quanta gente c'è qua, scusa. Ma quanta gente c'è? Ti prego, Gesù, ti prego, Gesù. Ave Maria, piena di grazie. Ave Maria, piena di grazie. Ave Maria, ave Maria, parma di Maria, parma di Maria. Io sono senza parole. Io sono senza parole. No, io davvero... Io davvero, Gesù, non ti capisco. Non capisco. Davvero, Gesù, io... Non capisco. Non capisco quale inferno, quale giovane dell'inferno mi ha portato per farmi giocare a questo gioco. Io non rispondo, lo voglio, ti assicuro, è tutto. Che dico, non... No, veramente. No, veramente, Gesù, io non ti capisco. Non ti capisco, guarda. Veramente. Boh. Boh. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Sicuramente non lo so. Sicuramente non lo so, Gesù. Di solito che porti... Beh, per ora ho fatto tre live e ho portato questo gioco e basta per ora. Però è veramente... Questo gioco mi sta facendo diventare matto. Diventare matto. Sono diventato scorbutico con le persone. Appena mi dicono cose... cose... Oltre che fei, oltre che fall, boh, pensavo di portare altri giochi, ma poi deciderò. Cioè, con le persone sono diventato scorbutico. Tipo, oggi mia mamma mi ha detto buongiorno e io l'ho mandata a cagare. Ma come si permette di dirmi buongiorno? Ma stiamo scherzando? Come si dice buongiorno? Ma come si permette di dirmi buongiorno? Sta palla di lardo! Ma alzati in piedi, porca madonna! Sta palla di lardo che cade così! Sta palla di lardo! Ma guarda che palla di lardo! Guarda, salto! Tiè, palla di lardo! Guarda che palla di lardo! Ciccione ripieno di merda! Porco Dio! Madonna cinghiale! Madonna cinghiale! Sta palla di lardo! Cristo Dio! Cristo Dio! Cadi anche in piedi! Porco Giuda! Giuda di merda! Che palla di lardo che è questo! Madonna! Madonna, cara! Io mi impegno, ma veramente, oh! Ma veramente! Guarda, guarda, guarda! Palla di lardo! Ciccione ripieno di merda! Porco Dio! Porco Dio sto palla di lardo! Porco Dio! Non posso fare un salto che se no, guarda! Tiè! Vaffanculo! No veramente! 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 Oh mio Dio ce l'hai fatta! Palla di lardo! Mamma mia! Questo ciccione qua, guarda! Fa un salto e cade! Ora è un miracolo che non è caduto! No, 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 ti prego! No, no, no! Va a fanculo! Va a fanculo! Ma che palla di lardo! Va qua! Vai qua! Salta qua! Salta qua! Salta qua! Ok! Per me l'infanzia è una settimana fa! Vabbè, dai, non sei così giovane! Guarda, guarda, guarda! Una palla di lardo! Easy! No, 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 davvero! Ti supplico! No dai, ti prego! Un salto così di merda! Va va a fanculo! Cristo Dio! Mangia meno! Questo qua! Questo qua! Questo pinguino! Piccione! Si riempie così tanto che c'è il... Ma va a fanculo! Guarda, mi suicido! Guarda! Dov'è che è un punto che mi butto? Guarda! Piccato a questo punto! Mi butto qua! Guarda! Mi butto qua! Ciao! Addio! Mi arrendo! Mi arrendo! Guarda! Guarda! Basta! Mi rassegno proprio! Via! Buttati! Via! Guarda! No! Non è possibile! Non è possibile, gente! Non è possibile! Morire sempre così! No, veramente! No, veramente! Sto gioco ce l'ha con me! Sto gioco cosa è con me? Senti! Senti! Gesù! Non mi dai mai fortuna! Ma è una volta in me la fortuna! Manco un po' di fortuna! Manco un po' di fortuna! Manco un po' di fortuna! Cristo Dio! Amma mia! Ok! Riproviamo! Allora riproviamo! Ok! Riproviamo! I pezzi di carta igienica stanno diventando un po' troppi comunque! Sei dell'anticristo ora! No, no, no! Non esageriamo! Io mi dissocio da tutto! Così sono a posto! Giusto? Metterò contenuti per adulti! Allora dai! Ho bestemmiato un po' troppo! Mi dissocio dalle bestemmie! E lo dette non ero in me! Quanti pezzi di carta igienica? Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette! Sette morti! Allora sono morto sette volte! Mamma mia! Allora sono morto sette volte! Assurdo! Veramente assurdo! Ok! Ok! Guarda quanta gente si è radunata! Ok! Ok easy! Vai! E la madonna! E la madonna! Vai! Butta! Mi va! Perfetto! Vai! Win this game! I try man! I try! Ma questo qua il problema è che io vincerei anche! Ma questo qui è una palla di lardo! Ecco qua ovviamente! Guarda bello! Mi piace ancora la palla nel culo! Ah che bello! Ancora sì! Ancora dai! Ah che bello! Ancora sì! Continua così! Oh che bello! Vai ancora! Ma ancora sì! Che bello! Che divertimento! Che bello for guys! Che bello for guys! Guarda che bella la palla nel culo! Veramente un'esperienza magica! Ve la consiglio! Sì ancora! Ancora! Vai ancora! Ancora! Vaffanculo il porco! Oddio! Vaffanculo! Ste palla nel culo! Guarda! Il gioco è di merda! Ma veramente! Ma veramente! Io sono senza parole! Poi è logico che perdo! Dai mi intrappolo così! Neanche un minimo d'aiuto! Bello! Ah sì sì sì! Giustissimo! Giustissimo! Ho scelta coerente! Scelta coerente! Assolutamente no! Oh mio Dio! Forse ti prego! Maybe! Maybe! Maybe porco Dio! Quinta 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 quinta! Lib Show! Vaffanculo ho perso! Lib Show! Ho perso! Ce l'erano quattro avanti! I primi saranno gli ultimi! I ultimi saranno i primi! Eh speriamo! Me lo auguro! Me lo auguro! Sto cominciando a diventare una mummia! Sto cominciando a diventare una mummia! No io mi rassegno! Tra poco io cambio gioco! Porterò altri giochi! Allora! Ti prego! Muro si alza! Muro si abbassa! Ok! Ci siamo messi! D'accordo! Dai dai! Ok! Easy! Speriamo veramente! Dai alza dai! Basta ti basta ti! Ok! Ti prego Gesù! Bene! Bene! Ok! Questo si abbassa! Questo così! Ok! Perfetto! Guarda! Devo andare nella parte dove la porta! È tipo fatta così! Oh no! Fail! Ho fatto un fail! Ho fatto un fail! Ti prego ora salta però! No no no! Si! Ti prego! Ti prego! Ti prego! TANI! Giucane! 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 Certo che porterò Fortnite! Non appena avrò fatto una vittoria a questo gioco porterò Fortnite di sicuro! No davvero! No davvero! No davvero! No davvero! no davvero io io non so più non so più davvero che fare non so più che fare non so più che fare no che sfiga 22 bestemmi in 10 secondi no davvero io sono veramente allibito sono veramente allibito stiamo andando veramente in una situazione critica stiamo andando in una situazione critica qua qua non siamo messi bene non siamo messi bene quindi veramente questa situazione critica sperimenti ci provo ma qua la situazione è critica ok la situazione è critica torno subito ragazzi ok 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 no ecco sono caduto è più grande che potessi commettere ma quello le sa tutte le porte ok ok ci abbiamo fatto poverino questo che non ha vinto mi dispiace molto per te sono andando in depressione cosa faccio a non andare in depressione per me sto gioco ce la posso fare benissimo posso farcela benissimo a feature è possibile è possibile ce l'ha fatta c'è la fatta ma è chiuscia 20 volte non posso farcela io ok questo gioco già è abbastanza easy è abbastanza easy avrei visto quella schermata un milione di volte veramente la schermata l'ho vista davvero un milione di volte un milione di volte l'ho vista ok 1 allora la banana è qua l'arancia è là l'arancia è la banana la mancia o la banana l'arancia o la banana mettimi l'arancia o la banana oddio dove devo andare in una nostra stagione non fa stagione dimmi l'uva quel cazzo devo andare tutti vanno là porco dia oh che palle che palle oh che palle basta basta allora so chi mi può aiutare so chi mi può aiutare cos'è lo di un aiuto tu devi aiutarmi tu devi aiutarmi a vincere devi portare fortuna sto chiedendo solo questo è un piccolo favore è un piccolo favore puoi farcela devi solo portarmi fortuna ciao gatto devi solo portarmi fortuna so che ce l'ha portata so che ce l'ha portata ce la possiamo fare vero che ce la facciamo ce la possiamo fare ce la possiamo fare io e te più e te attaccagli la carta igienica questo regalo per te adesso siamo pronti adesso siamo pronti non vuole non vuole ah che caga ah gatto di merda ah gatto di merda che dolore perché mi fai questo Garfield cazzo Garfield ma non ti ho fatto niente gatto di merda mi ho fatto malissimo ma non io ho fatto niente che cazzo vuole oh mio dio tra 80 anni abbassati madonna cara vabbè ho perso colpa del gatto mai fidarsi di un gatto vabbè live show live show madonna Garfield come ti permetti il gatto che mi fa queste cose io davvero da lui non me lo sarei mai aspettato che il gatto mi facesse un torto del genere sto violando qualche regola di maltrattamento animali non penso cioè il gatto è venuto qua ma mi ha mi ha fatto cadere tutte le cuffie io ho detto gatto di merda twitch nel senso mi dissocio dall'insulto detto al gatto ma penso di non aver ferito i suoi sentimenti anche se in questo momento mi sta guardando in un modo molto minaccioso ragazzi scusa sei stato un po' stronzo garfito devi ammettere come ti sei permesso di venire qua di buttarmi giù le calce è davvero da te non mi sei mai aspettato un comportamento di questo tipo cioè ti conosco da dieci anni e trattarmi così garfi è davvero assurdo ok a parte le cazzate guarda dove riuscite e posso farcela posso farcela provaccia 3 spec gg molto bene vabbè uno sono io uno sei te l'altro sarà con qualcuno ok ce la stiamo facendo nice qualificato e uno è presa e uno è preso mettiamo tutti quelli che entrano varta è stato bello ok ma è davvero qua sto andando a un punto in cui io devo urgentemente vincere devo vincere ci devo vincere guarda qui vincere non gioca a squadre 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 non mettermi in gioco a squadre tutto pur che non sia un gioco a squadre specialmente di calcio grazie mille grazie mille il gioco mi ha ascoltato ah comunque dovevo metterne un altro perché sono morto prima ne metto uno e cadono tutti perfetto no lo sapevo lo sapevo però volevo provare ok un attimo che il convento non è appasto non so se è arrivato il convento non me l'ha vai 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 ok dai let's go qualificati devo andare bro comunque avrò gli incubi con sto gioco arrivederci buonanotte ian apriù alla prossima grazie per avermi seguito anche avrò gli incubi ah no ma io tanto non dormo quindi gli incubi non li posso avere ok quanti stiano? 31 31 rimasti Gesù se tu esisti una grazia divina so che ci sono molte persone ammalate che soffrono ma una grazia divina così un 0,001% di grazia divina un po' di culo vorrei solo questo vorrei solo un po' di culo è tanto chiedere un po' di culo una richiesta tanto grande tanto importante chiedere un pizzico di culo ok questo gioco è easy comunque posso farcela facilmente questo faccela molto facilmente no 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 eh no no ti prego no ti prego no ti prego no ti prego no paperino paperino ok 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 easy 8 su 13 stiamo andando bene stiamo andando bene easy no 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 9 su 13 ti prego 10 su 13 dai ti prego ti prego per favore ti prego per favore no 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 cadete no 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 cadete 10 dai dai cadete un po' e cadete un po' fatemi questa cortesia di cadere un pochino 11 ora per favore e lezzico qualificato molto bene qualificato grazie mille grazie mille grazie mille grazie qualificato io devo aggiungere comunque due pezzi di carta ok uno sono riuscito a farlo e un altro devo aggiungerne due due aggiunti ok no no ti prego non cadere ti prego non cadere perché perché esiste questa cosa che è una forza di gravità cioè veramente ma come si permette questa forza di gravità di sfottere di sfottermi in questo modo veramente assurdo ok non è assurdo come si permette ok cos'è sto gioco ok sempre quello delle piattaforme quindi entico al birillo praticamente perfetto molto bene entico al birillo maio o o o o o o o o o uno è morto lol questa è qui in mezzo, questa è qua al centro perfettamente questa monta è nel centro senza faccio un minuto ora è il momento di spingere adesso no 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 per favore ok qualcuno non ce l'ha fatta mi sa qua ok mamma mia le stanno andando più veloci più veloci ok ce l'ho fatta molto bene uno due ok bello siamo in dodici quindi mi sa che adesso c'è il round finale in teoria e il final round ovviamente saranno gli esagoni giusto final ovviamente ti prego ti prego questa qua è la seconda volta che ci arrivo ecco devo stare qua sopra ecco ovviamente no no porca miseria sto cadendo troppo devo far cadere gli altri maledetta gallina maledetta e si vabbè figa e si vabbè sto palla di lardo cade troppo però la devo fare tipo al centro no pezzo di no basta mi dispiace però io non ce la faccio più se siamo no davvero va veramente non capisco non capisco perché la gente è così cattiva con me in questo gioco davvero davvero non li capisco che devono essere così cattivi con me in questo gioco ultima ultime partita poi basta perché devono essere così cattivi con me in questo gioco non capisco non capisco non capisco non capisco non capisco lo so io ho fatto di male non lo so penso di non aver mai fatto nulla di male invece come sempre bullizzato in questo gioco in una maniera assurda assurda non capisco non capisco vabbè a ogni modo questo ormai lo conosco a memoria questo è davvero io non so cosa fare almeno che non non capita un miracolo io davvero tra poco mi arrendo farò ancora cioè mi sto rendendo seriamente su questo gioco sto piegando troppo tempo maledetti esagoni maledetti esagoni bello sto assembramento dg bel assembramento vai dammi una botta così dai dammi una botta perfetto ma che arrivino tutti dai dai ok ok easy beh passato ugualmente sono uno stupido sono uno stupido sono uno stupido ok volano questo checkpoint porca miseria ladra porca miseria ladra ok ok bene vai si ha reso questo oh mio dio e questa è fatta questo è fatta infatti sto perdendo un attimo proprio la concentrazione mi sto fissando su questo gioco come se fosse si fermo si stava mutilendo un po' un casino adesso devo senterò un gioco di squadra stavano gli stessi giochi di prima ok meno uno zero baro meno uno interessante ok ok oh e basta spingere oh e basta spingere aspetta 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 malonna sette su dici otto su c'è sette ti prego signore tredici 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 molto bene molto bene secondo fatto ne mancano ancora tre ok qui diciamo ciao ciao a tutti ok tredici e 24 ci sono molto bene tredici 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 più sfigato di tutti ovvero il giallo e poi sono a posto ovviamente sono nel film giallo ovviamente mi sembra forse no ovviamente vabbè perché oh stiamo calando noi prendi l'uovo d'oro devo rubare le uova a qualcuno eh ne hanno 25 com'è possibile no prendi no oh dai prendi l'uovo d'oro eccolo vai vai l'ho calciato via no no maledetto ce l'ha rubato dai ma ce le stanno rubando le uova a noi che non ne abbiamo nessuna che stronzo basta vabbè mi arrendo basta 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 mi dispiace basta basta exit exit vabbè si è crashato io vi ringrazio a tutti per la visione noi ci vediamo in un'altra live di 4guys ciao non ce la faccio più buonanotte a tutti buonanotte non ce la faccio più non ce la faccio più